La deconcentrazione è spalmare tutti i punti d'attenzione dappertutto e nello stesso momento. Sentiamo il respiro molto tranquillo, l'aria che entra facilmente e esce facilmente. La deconcentrazione è spalmare tutti i punti. La deconcentrazione è spalmare tutti i punti d'attenzione della deconcentrazione. Se noi facciamo non ci sono riuscito a far più male eccetera eccetera, è il fatto negativo che noi ci scoraggiamo. Invece di fare no non ci sono riuscito, troviamo una cosa che siamo riusciti a fare. Siamo riusciti a mantenere la deconcentrazione per un secondo? Sono riuscita a farlo per un secondo, la prossima volta la faccio meglio. Ogni volta notiamo sempre la parte positiva, così ci cresce e ci porta ad essere entusiasti di quello che facciamo. Ciao! 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 iejsociale azione